A posto! A posto! A posto! Potpardi! Coup store! FPP! 20 W 20 Durf 30 Ok, ok, proseguiamo con un mandro importante, vi ricordo, acquistate la maglietta, la maglietta del Memorio Betiol, serve a sostenere un'iniziativa benefica che si chiama Borsa Natatoria, serve a dare dei corsi gratuiti presso questo impianto a dei bambini con delle situazioni familiari disagiate, ok? Se non avevo delle chance, creiamole noi, comprate una bella maglietta, originalissima e in memoria di Andrea, costa poco, fa del bene, forza, cercate giù in fondo dove andate a prendere la roba da mangiare, c'è la signora Gianna che vi aspetta, fatelo! Vi ricordo, vi ricordo i nostri stand da visitare, Bode Swimmer, Arena, Herbalife!